dopo una verdose di purè nel primo round, il primo piatto del menu di oggi, firmato da Gabriele Bonci, di ritorno da Chicago, dove ha aperto la sua nuova panetteria. Il panificatore romano prepara la pizza con funghi e salsiccia, altrimenti detta boscaiola. Ingredienti salsiccia, funghi champignon, ricotta di pecora, finocchietto selvatico, pepe nero, prezzemolo tritato, olio evo, sale procedimento. Ci serve una teglietta rotonda, simile ad una tortiera. La ungiamo con abbondante olio ed inseriamo all'interno il panetto di impasto già pronto. Qui la ricetta base della pizza di Bonci, che oggi ha realizzato con farina tipo 2. Lasciamoli evitare per una notte, in frigorifero. Stendiamo all'interno della teglia. Lasciamoli evitare ancora per 1-2 ore al caldo. Trasferiamo su una teglia rettangolare coperta con carta forno, senza stenderla ulteriormente. Disponiamo sopra della salsiccia sgranata e ancora cruda. Inforniamo al massimo della temperatura, nella parte bassa. Quasi a fine cottura, dopo 10 minuti, spostiamo a metà forno e lasciamo cuocere altri 5 minuti o fino a doratura. Punto Tagliamo a fette le pizza e su ogni spicchio formiamo un ciuffo di ricotta di pecora setacciata in modo da renderla una crema soffice e vellutata e disponiamo sopra dei funghi champignon affettati cotti in padella con un filo d'olio e l'aglio. Completiamo con prezzemolo tritato, finocchietto selvatico e pepe macinato al momento. Le nostre cancelletto videoricette.